32 nazioni, 140 ginnaste e 300 componenti delle delegazioni sono alcuni dei numeri della World Cup di ginnassica ritmica che si terrà alla Vitre Frigo Arena dal 3 al 5 giugno. Dopo l'evento annullato nel 2020 e quello dello scorso anno che si è svolto senza pubblico, la tredicesima edizione vedrà l'astronave di Pesaro a capienza piena. A difendere i colori azzurri le farfalle Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Maurelli, Capitana e Martina Sant'Andrea. Tra le individualiste invece saranno protagoniste le marchigiane Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri della società ginnassica Fabriano. In pedana le nazioni più forti al mondo, dall'Italia alla Bulgaria fino a Cina, Giappone, Arzerva e Gianna e Ucraina. La tappa italiana sarà l'unica edizione 2022 della World Cup a cui parteciperà la squadra ucraina a causa del conflitto in corso. Loro, visto che non sono riusciti ad andare in nessun'altra coppa, si sono sempre iscritti ma poi si sono cancellati per tanti problemi ovviamente. E qui invece abbiamo fatto di tutto per farli venire. Sarà un viaggio molto lungo perché prenderanno il pullman da Kiev a Varsavia. Sono 12, 13, 14 ore di viaggio e poi a Varsavia prenderanno l'aereo. E quindi speriamo che tutto vada bene e che arrivino domani. Purtroppo non ci sarà né Russia né Belorussia. Questo ci dispiace molto perché sono due nazioni molto importanti nella ginnastica ritmica e molto interessanti. Noi non abbiamo divisioni, ci dispiace molto, siamo in contatto anche con loro ma purtroppo questa è la realtà. Pesaro, oltre ad essere la tappa conclusiva del circuito della World Cup, è anche quella con il maggior numero di squadre e ginnaste partecipanti. Sarà un grande spettacolo, ha poi aggiunto Paola Porfiri, che verrà visto da tantissime persone in tutta Italia contribuendo a diffondere questo sport e a promuovere il nostro territorio. Molto interessante perché andiamo a raccogliere quello che è successo nella ritmica negli ultimi tre mesi e per fortuna per quello che ci riguarda sono successe solo cose buone, siamo avanti dappertutto sia nell'individuale con la Raffaelli sia nella squadra e quindi bene così. Ci sono tante nazioni ma l'Italia in questo momento anche dovuto al fatto della guerra e quindi della mancanza della Russia, bisogna dirlo, della Bielorussia, chiaramente abbiamo un vantaggio. Però con la squadra come sta andando in questi ultimi tempi penso che non ce ne sarebbe stato per nessuno, insomma. Fino ad oggi perlomeno è così, speriamo che continui così anche nei prossimi dieci giorni. Le finali di domenica verranno trasmesse in diretta dalla 7, mentre le giornate di venerdì 3 e sabato 4 potranno essere seguite in streaming sul canale YouTube della Federazione Ginnastica d'Italia. Il programma completo invece può essere consultato anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. La città, la Vitrifrigo Arena, insomma si confermano veramente il polo centrale in cui la ginnastica ritmica ha trovato casa e dove dà il meglio di sé. È un indotto importante anche sotto il profilo turistico, non solo per i numeri che si fanno in città ma per la promozione che è un evento di questo genere ciasso. I biglietti per i tre giorni della manifestazione possono essere acquistati sia online sia negli uffici della Vitrifrigo Arena. La regione è sempre dalla parte del mondo dello sport, del mondo dei giovani e anche di tutto ciò che ruota attorno da manifestazioni del genere come il turismo, le persone che visitano la città e danno risalto e lustro alla nostra regione Marche. Quindi molto bene, in bocca al lupo a tutti i partecipanti e agli organizzatori.